Ciao a tutti, sono Vittoria Moretti e ho svolto la laurea magistrale in biotecnologie molecolari industriali presso l'Università dell'Insubria. Dopo aver frequentato il primo anno di corsi presso l'Università, sono partita per Praga e ho svolto il programma doppio titolo nell'Università di Chimica e Tecnologie di Praga. In particolare mi sono occupata della biosintesi di nanoparticelle d'argento e della valutazione della loro attività antimicrobica su ceppi di pseudomonas eroginosa. Ho così ottenuto una doppia laurea in biotecnologie industriali e biotecnologie farmaceutiche, mi ha arricchito anche a livello linguistico perché ho svolto l'intero anno in lingua inglese, sia gli esami, sia le lezioni, ma anche confrontarsi in laboratorio con gli altri studenti, i ricercatori. Attualmente sto svolgendo invece il dottorato di ricerca in medicina sperimentale e traslazionale, quindi ho voluto continuare il percorso accademico e sono al primo anno di dottorato presso il laboratorio di genetica medica del professor Porta.